Ci siamo segnati che Wano a nord-est di Acinosu, a est del Warland, a sud-est c'è Gede più il G14. Il Toshi Toshi, le persone tornano alla realtà, gli oggetti invece invecchiano e si rompono. E poi abbiamo scoperto anche che può modificare i suoi futuri e passati anche, perché anche questo fa con il Distortion Future, ma può fare anche il Distortion Past sicuro al 100%, perché lo fa con Luffy, che lo invecchia, se vi ricordate, nella maniera marcia, in base alla propria fantasia. Cosa significa? Che più diventi consapevole, quindi diciamo adulto, meno funziona questa parte del potere. Abbiamo scoperto che il primo clone è ben riuscito dei mezzi estussi, che Weevil è catturato da Aramaki Toroverde prima, questo possiamo scrivere, prima che Aramaki andasse a Wano per Luffy. e quindi Weevil potrebbe, direi che, potrebbe essere un clone fallito del pedo bianco, nato 35 anni fa. Questo è interessante. Poi l'incidente di Eged non esiste, se non dal punto di vista mediatico. Lo ha deciso Morgans. Già vi ho spiegato cosa è successo. Cioè, ha inventato quattro cagate, ha fatto l'articolo di giornale, ha detto, boh, inventiamoci sta roba, così il governo stavolta dice che sono stato bravo. Chida ha perso il braccio per colpa di Beckman, Caesar e Giagi hanno fatto pace, hanno formato i Neo-Meds, arriva una zattera di Teach a Eged un giorno prima del presente, quindi nel giorno in cui è arrivato Luffy. Shanks è ossessionato da Teach, potrebbe essere la miglior love story di sempre. Moria è scappato da Chinosu per una direzione sconosciuta, cross guild, chi lo sa. Uomo dalla cicatrice di fuoco ha l'ultimo road poneglyph e naviga a bordo di una nave nera la quale sfugge ai nemici grazie a mulinelli in mare. Come vi dicevo, non per forza è lui a fare i mulinelli. Super Joy, sono d'accordo con te, anch'io penso che sia lì per Caribou, però ovviamente non lo sappiamo. Lo sta scappando da Teach in groppa a Beppo via mare, quindi diciamo che è salvo. Kid invece è morto, tra virgolette, no? Ma è morto, perché qui non è morto. Questo lo aggiungo io, secondo me ritroveremo Kid e Law entrambi nel Gorland. Così tutti andranno lì in un modo o nell'altro. Buggy vuole il One Piece e se lo prenderà pure, dico io, dico io, vecchio cuore. Bonnie dice a Sabo che lei va a Heged e qua aggiungiamo Dragon non sa dove è andato. Ostia, orso. Bene. Siamo così. Perché è un po' merdone. Sai a Leo che colpiscono Charles e l'incidente della flotta di Cappello di Paglia. questo è un dato di fatto. La D si può appioppare a piacimento? Cioè si poteva. Si può appioppare a piacimento oggi perché è senza senso. 800 anni fa se la appiopparono certi individui che condividevano un obiettivo volontà della D. Ok? Imu vuole Vivi per un motivo particolare. Aggiungiamo collegamento con Lili vendetta Vivi ha ereditato la volontà di Lili cioè possiamo inventarci quattro cose. I Cavalieri di Dio servono solo per le dispute interne a Marigua quindi non difendono i draghi celesti. Per quello c'è la Marina infatti non intervengono quando arriva Orso. Garp è morto? Potenzialmente no. Però sarebbe anche il caso. Lo aggiungiamo noi. arriva la Marina più Saturn a Eged e poi passa un giorno. Saltiamo tutti i combattimenti inutili che piacciono ai Medi. Bene. La Zatta e la Segnandata i Stronzi che era giustamente la Marina sono ancora lì a non fare nulla direi hanno i neri hanno portato via Caribou Chissà Non c'era la parte quella su 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 Ah ecco qua di qua l'ho ucciso Morgan aspetta può aggiungere una cosa chi ha chiamato Morgan perché questo è interessante chi ha chiamato Morgan dall'interno di Eged che sapeva i fatti e non si sa poi York ha mandato il Modern Flame a Imu qua c'è da aggiungere che quando i vecchi la ringraziano fanno intendere che a qualcuno la cosa interessa ma lei non non capisce che c'è Imu dietro tutto ovviamente il Serafino Hancock ha nel fattore lineaggio l'amore per Rufy e questo l'ho messo per un motivo potrebbe essere anche questo ciò che ha mosso orso da Kamabacca e la domanda poi è cosa ha triggerato non trincerato triggerato orso a Kamabacca speriamo che lo capiamo nei prossimi capitoli Akaino in quanto ammiraglio ha il dovere di difendere i celesti non è compito dei cavalieri di dio e questo l'ho ribadito perché ovviamente se no ve l'ho dimenticato Kisaru si incuriosisce della forma di Nika sa di Nika non penso proprio però ovviamente aveva visto la taglia e sapeva che ha sconfitto Kaido con quella forma no la musica dei tamburi della liberazione riattivano riattiva il robottone infernale è questa l'energia del regno antico erano degli hippibalordi che suonavano i ponghi in piazza sempione potrebbe essere interessante i vecchi assi sono sempre vecchi il colpo di spada lo fa sanguinare e poi si cura subito e poi bonnie non riesce ad invecchiarlo o ringiovanirlo col suo frutto qua avevo ipotizzato che potessero essere degli orcrux permettetemi il termine di imu ok quindi imu e Voldemort Saturn si fa colpire fa per colpire Nika a morte quindi obiettivo primario è la morte di Nika vero non venero vero nemico del governo perché la gente dica no no figa prima cosa deve fare infatti quello che ha fatto poi un attimo si è rincitrullito ha chiacchierato un po' infatti poi cosa fa poi dice di mettergli le manette ai polsi cioè poi subito dopo subito dopo dice benché per noi siano passati decenni da quel momento lì no orso partina razza dei baccani il popolo che viene la Nika e che è schiavizzato dal governo mondiale a questo aggiungo io differenza dei lunaria che sono stati sterminati e per qualsiasi info pagano fior fior di soldi i baccani sono feci secche e non vogliono nulla Barton Lucla potenzialmente potrebbe essere quello che rifuso la leggenda di Nika ma schizzetto usw sentirà questa leggenda anni dopo quindi il papà di orso ha fatto sì che la leggenda continuasse a diffondersi tra gli schiavi e questo potrebbe anche portare al fatto che potrebbe essere che Fisher Tiger avesse diciamo avesse scoperto di Nika grazie a questa faccenda da qui i pirati i pittori i pirati del sole tutto che si collega insieme no vedete come quindi come si si mescolano le carte rox va a god valli per via apparentemente del furto del tesoro di acino su vanno anche a prendersi i frutti del diavolo capitano john dice che il tesoro è il suo e io qua mi sono fermato poi non ho più un cazzo perché alla fine poi non è che sia successo nulla di memorabile diciamo che ci può essere utile nel nostro discorso e qui c'è da capire no? qua c'è da capire cosa volesse roger da rox rod uovo altro boh cosa altro possiamo aggiungere per chiudere il nostro discorso saturn è uno scienziato migliore di vega pack perché a differenza de a differenza dell'idiota già 14 anni fa 12 pardon 12 anni fa poteva mettere i paramiscia nelle persone senza che lo mangiassero biga pack ha dovuto fare il green blood vergogna e basta penso che queste siano le informazioni utili perché poi tra una cosa dell'altra non c'è molto di più da aggiungere al nostro discorso vediamo ora la prossima settimana vedremo effettivamente che cosa che cosa accadrà che cosa succederà quale sarà il proseguo di questa storia per come è finito io ho quasi il presentimento che o parte un altro flashback che non ti fa vedere subito il pugnazzo così che tu hai ancora l'attesa perché è difficilissimo che cominci il capitolo con orso che già picchia saturn quindi o c'è un mini flashback dove vediamo magari cosa è accaduto a gold valley tra saturn e orso o altrimenti il pugno non va a buon fine però mi sembrerebbe un po' strano mi sembrerebbe veramente un po' strano basta io penso di potervi anche salutare ho fatto anche qualche minuto in più ma devo andare a farlo a spesa ci sarà di là mappi che aspetta è fatto tardi dobbiamo andare a far la spesa raidino facciamo un raidino così salutate qualche amichetto e poi staccata e non andate via un attimo facciamo un raidino veloce veloce vediamo chi c'è vediamo chi c'è vediamo chi non c'è ci sono gli amici di anime night live quindi andiamo da loro andiamo da loro andiamo da loro quindi raid anime night live è giusto anime night live esatto quindi andate salutate i miei fratelli e alla prossima ci vediamo domenica mi raccomando per la live sull'anime e domani per la live su De André bye 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 bye